benvenuta a tutti su radio news 24 e onere interviste storie io sono silvia lulli oggi vi porto in veneto a conoscere cesare dell'allevamento valleastico ciao cesare ciao ciao buongiorno a tutti ciao buongiorno senti cesare tu hai un allevamento e nello specifico dove noi siamo nella valle dell'astico diciamo nord di vicenza le pendici di asiago dove c'è il nome anche vero da cui prende esattamente prende il nome valleastico ecco senti cesare raccontaci un po la storia del tuo allevamento beh diciamo che io assieme a mia moglie e susanna gestiamo da diversi anni questo allevamento professionale di labrador e golden è cominciato tutto per la passione dei cani abbiamo cominciato a frequentare l'esposizione canine e poi anno dopo anno e cucciolo dopo cucciolo è diventato è divenuto un lavoro che ci impegna tantissimo però con enormi soddisfazioni diciamo ecco è soddisfacente lo immagino e hai detto hai detto che allevi labrador e golden che caratteristiche hanno questi questa razza qui diciamo sono due razze veramente uniche per la loro indole e dolcezza sono dei cani da compagnia e non solo ideali per famiglie e per i bambini con problemi sono una vera terapia e vengono utilizzati molto anche nel sociale diciamo da tutte le forze dell'ordine dei carabinieri protezione civile croce rossa sono usati come cani da pet therapy cani guida per cecchi cani da ricerca su macerie cani salvataggio in acqua antidroga e diciamo e anche per il loro eccellente fiuto sono cani che ricerca tartufi o anche nella caccia come riporto diciamo sono dei retriever dunque nel gruppo otto e sono dei cani da riporto sono bellissime razze si in effetti sono considerate penso le due razze migliori per le famiglie in assoluto ecco per le famiglie sicuramente vero e senti come le allevi tu i tuoi cuccioli i nostri cuccioli e beh non facciamo tantissime cucciolate diciamo e noi abbiamo una trentina di cani e le nostre cucciolate per poter seguirle nel miglior dei modi e dargli un'attenzione speciale e non facciamo tantissime cucciolate e diciamo che l'attenzione speciale diamo per che siano pronti alla convivenza con noi umani che è molto difficile nostri cuccioli vengono consegnate a 70 giorni sverminati sverminiamo tre volte ai 20 40 60 giorni due vaccini microchip e pedigree ecco diciamo chiara consegna poi diamo ai nuovi proprietari una brochure che è importantissima e spieghiamo anche per la corrente alimentazione e e diciamo come gestire il cuccio come gestire il cuccio ecco e proprio riguardo alla gestione del cucciolo se una famiglia decide di venire da voi acquistare un cucciolo qual è il leader da seguire beh diciamo prima di tutto noi consigliamo sempre una visita in allievamento per poter vedere i nostri cani i genitori sicuramente che è la cosa più importante perché diciamo che i cuccioli sono tutti belli e importante vedere come vivono i nostri cani e vedere se piace diciamo la razza noi sono tutti liberi qua e vanno a contatto sicuramente con quelle persone che vogliono venire a trovarci insomma ecco e poi insomma dopo 70 giorni come dicevi possano prendere il cane portarlo a casa giusto sì noi e li seguiamo anche telefonicamente se hanno qualche dubbio piuttosto di sbagliare cosa vengono seguiti da io e mia moglie e ecco e ci piace sempre che ci mandino via whatsapp delle foto e video per loro crescita e vederli vedo che tanti tanti nostri clienti vengono a trovarci dunque vuol dire che state facendo un buon lavoro ecco senti cosa ne pensi della razza che allevi delle razze scusami che allevi beh diciamo che ne troviamo dei cani molto come dicevo uniche perché avevamo anche altre razze ma ci siamo fermati veramente per le loro indole sono dei cani stupendi che basta uno sguardo insomma vero confermo vedo che che si adattano molto ai proprietari diciamo non sono né cani da guardian né cani diciamo sono agilissimi però sono molto fanno molto bene per le persone diciamo che vogliono un cane da compagnia ecco sono dei cani stupendi mi manca solo la parola lo immagino si si sente si percepisce dal modo in cui lo dici che sei innamorato di queste due razze diciamo che è una vita abbiamo cominciato questa posizione a 23 anni avevamo 23 anni adesso ne ho 56 dunque un po di di cani un po di anni sono passati siamo ancora qua perché per fare questo lavoro sicuramente ci vuole molta passione non lo fai per altro è vero è vero allora se cercate un cucciolo di labrador golden retriever amici ascoltatori andata all'allevamento valleastico di cesare in veneto e su facebook potete trovarlo come labrador valleastico mentre su instagram labrador punto valleastico senti cesare hai per caso anche un sito web vuoi dire ai nostri ascoltatori sì beh il nostro sito web è www.labrador.com valeastico.it perfetto cesare grazie mille è stato un piacere averti con noi grazie a voi ciao cesare ciao grazie ciao ciao questa era radio news 24 torniamo fra poco con una nuova intervista